Gesù Cristo Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno Giovedì 29 agosto Martirio di San Giovanni Battista Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire, per la verità e la giustizia. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco Gloria a te o Signore In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere. Ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un bacchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E lei giurò più volte «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno». Ella uscì e chiese alla madre «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose «La testa di Giovanni il Battista». E subito entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione, e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere, e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore Lode a te o Cristo La storia di Giovanni Battista ci parla di coraggio e di integrità. Un uomo che ha scelto di dire la verità anche quando questo gli è costato caro. Mi fa riflettere su quanto sia importante difendere ciò in cui crediamo, anche quando non è facile. Ma nella vita di tutti i giorni quante volte ci troviamo di fronte a scelte difficili? Quando vediamo qualcuno buttare rifiuti per strada, quando un amico fa un commento discriminatorio, quando ci chiedono di chiudere un occhio su qualcosa di sbagliato al lavoro, cosa facciamo? È facile restare in silenzio, pensare non solo a fare i miei. Ma Giovanni e persone come Greta ci ricordano che ognuno di può fare la differenza, che le nostre azioni, per quanto piccole possano sembrare, contano. Proviamo a chiederci, c'è qualcosa nella nostra vita per cui vale la pena alzarsi in piedi? Forse si tratta di difendere un collega bullizzato, di opporsi a uno spreco di risorse, o semplicemente di fare la scelta giusta anche quando nessuno ti sta guardando. Sapete che cos'è il coraggio? Il coraggio non è l'assenza di paura, ma è la decisione che qualcosa è più importante della paura stessa. E allora cerchiamo di essere coraggiosi per difendere ciò in cui crediamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! Anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, e per i loro famigliari, e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere, ciao ciao, e abbi cura di te. Grazie a tutti, ciao ciao! Grazie!